E allora benvenuti riperiani al tutorial 6A Scusate l'assenza di una settimana, sono stato un tipo malatissimo Cioè febbre e robe, volevo risparmiarvi un tutorial pieno di O roba del genere E allora oggi andiamo a fare una roba simpaticissima Andiamo a fare un bel beat tipo hip hop oppure di accompagnamento per una base State facendo che ne so una sigla per un podcast Oh che cazzo, un po' di musica porca troia Andiamo dentro, dai che non c'è tempo per state cazzate Soltanto per ringraziare più di, no forse più no però 200, sì più di 200, 203 Mi piace la pagina di Periani, stiamo diventando tantissimi Vi ringrazio anche per tutte le mail che mi mandate Riuscite a raggiungermi perché ovviamente su ogni mail che ho aperto su internet Non so come avete fatto, alcuni mi hanno rintracciato anche sulla mia mail personale Niente che non va, va benissimo, basta Anche però a volte per consigli d'acquisti magari aprirò una piccola rubrica sui migliori acquisti da fare Da usare, quindi al lavoro, facciamo un bel beat Allora benvenuti in sessione signori Rieccoci qua nella nostra sessione preferita Che è vuota Sono cazzi oggi, oggi sono cazzi Eh, quindi vediamo un po' ragazzi Ma lo vogliamo fare un bel beat? Un beat così, shanty? Lo facciamo, eh? Allora prima roba mi do un po' di spazio per lavorare Mi scendo un po' col master a meno 8 E carichiamo, eh, allora, no, questo no, scusate Carichiamo un bel VST Beh, il contact, eh Contact, voilà Il contact costa pochissimo, si trova ovunque se non volete pagarlo Insomma fate un po' quel cazzo che volete Funziona Allora, mi vado a prendere delle percussioni Che ora caricherò Queste qui sono le Abbey Road 60 Drums Che mi piacciono particolarmente Eh, intenzionalmente non userò un controller MIDI Perché magari nessuno, pochi ce l'hanno E quindi vi farò l'esempio di come usare Eh, queste percussioni Con la Keyboard Map Quella integrata nella tasterina di RIP Perché è molto comoda Allora, la prima cosa in contact è Selezionare il canale MIDI Su cui lui andrà a sentire Lui di default sta nella porta A host 1 Dategli un Omni Così da qualsiasi canale entrerete Sarete ok Lui ora sta caricando La batteria Vedo che già però funziona Perfetto Mi alza un po' il volume E quindi dai Andiamo a fare un beat Facciamo un beat di quelli proprio classici Magari da 90 BPM Quindi mettiamo BPM a 90 Attiviamo il metronomo Che è qui, è questo simbolo Eccolo qua Eccolo qua Molto bene Che cosa di Ok Quindi attirerò con View Virtual MIDI Keyboard Oppure con lo shortcut Alt B Vedete Ho la Virtual MIDI Keyboard Io ora devo dirgli alla Virtual MIDI Keyboard Di attaccarsi a contact Facendo clic destro sulla traccia Dicendo input MIDI Virtual MIDI Keyboard Ode Channel Ora Questa andrà a pilotare La mia batteria di contact Allora cosa succede Dobbiamo chiaramente trovare L'ottava giusta Con le Con i tasti Voi vi spostate Allora Dovevo accendere la traccia Perché se no Non sentirò niente Andiamo a cercare Eccolo qua Eccoci qua Diciamo Diciamo V E R T Y Facciamo una robina del genere Dai Quindi Rec Allora Allora sto facendo fatica Perché il suono mi arriva molto in ritardo Se questo succede anche voi Andate nelle impostazioni Mela virgola E abbassatevi il block size Ora io sono a un valore Folle Assolutamente folle A 128 Sicuramente La risposta sarà Quindi più abbassate il block size Più avete risposta Nei tasti Quindi Facciamo la registrazione E abbiamo fatto il nostro primo beat di due battute Andiamo a zoomare Ora chiudiamo che questi non ci servono Andiamo a zoomare Quindi con doppio clic Si aprirà Eccolo qui La finestra di editing midi Che non abbiamo visto tanto bene finora Queste sono le note che ho suonato Posso risentirle E' abbastanza chiave Che ammettiamolo Allora trascendo col clic destro Potete fare delle selezioni Così sono selezionati E potete quantizzarli Premendo il tasto Q Ora vi si aprirà questa finestra Ed è detto Ora ho fatto un degenero Perché lui sta Sta praticamente Quantizzando tutto al quarto Invece secondo me quantizziamo al sedicesimo Questo dipende dal ritmo che avete fatto Eccolo qua Quantizzato al sedicesimo Attenzione che se lo chiudete Non gli date l'apply Lui non lo fa Quindi dovete dargli l'ok Perché tante volte anch'io lo chiudo E mi dimentico di dargli l'ok E quindi il pezzo mi rimane non quantizzato Un'altra cosa vedete Nel loop Ora io Questo è scomodo Perché Dovete controllare bene Tenendo premuto Sul Sulla clip Vedete le varie durate Allora inizia a 3 Finisce a 5.333 Quindi non è ben Ben selezionato Invece l'end adesso vedete È andato su 5.1 Quindi la battuta è Precisamente la battuta È lunga 2 Vedete la lunghezza Segna 2 Quando state Tirando Lui vi dà la lunghezza Attenzione ai decimali Perché se non siete più che precisi Poi quando andrete a fare Quest'operazione Cioè il mela D Andrete fuori tempo Invece se Avete tagliato bene In modo accurato I bordi Sarete sempre a posto Io faccio un salva Mela S E andiamo a metterlo in big one In Beh chiamiamolo così Chiamiamolo tutorial Bit Quindi abbiamo fatto il nostro bit Ora possiamo spegnere Con mela D duplicate Quindi se ne selezionate 3 Ne farete 6 E se ne Se ne selezionate tutti Ne farete Tante ne farete 12 12 Chiaro se siamo forti Perché siamo fortissimi Bene Allora facciamo che vogliamo aggiungere qualcosa a questo bit Aggiungiamo una traccia A questo che lo chiamo Main bit Che è diciamo il nostro Il nostro bit principale Di costruzione Aggiungiamo che ne so Una yet E voi direte Devo mettere un altro contact Che è pesante Che è pesante No Le mandate di audio Quindi la parte sotto Questa qui Che sto evidenziando con il mouse Fa anche da mandata midi Quindi se io trascino La mandata yet Sulla mandata main bit Quando io sarò in registrazione Dicendogli Clic destro Midi Virtual midi keyboard Io gli manderò il midi Alla traccia main bit Quindi se ora io apro Con le opzioni B La virtual midi keyboard Vedete che io sto suonando Nella traccia yet Ma il mio midi Grazie a questa mandata Sta andando Nel GBS-T Così ne apro uno E ne apro mille E ho comunque il controllo Su tracce separate Non del suono Ma del midi Attenzione Dalla partitura Quindi andiamo a cercarci Adesso non è male Così per dare un po' di colore Un pochino più strano Mi riattivo Il metronomo Entro qui Ho fatto una cappella L'ho suonato malissimo Però è il bello della diretta ragazzi Quindi rientro Faccio clic destro Faccio Q Lo quantizzo Controllo che siano tutti a posto Questo ad esempio Posso quantizzarla a quarti Perché tanto Vedete che non ha problemi Non mi fa scherzi strani Posso tagliarla E l'ascolto Allora Sono troppo lunghi Quindi posso sempre selezionarli Con il solito metodo E accorciarli tutti assieme Finché non suonano giusto Benissimo Tolgo il metronomo Che ci dà fastidio E decido di farlo Solo sul secondo Quindi tolgo questi due Ora ho la mia traccia Zoom Controllo Che inizia 5 E finisca Vedete Che qui La lunghezza è 1,3 Era 1,3 e 9 Quindi non era giusta Lunga 2 battute esatte Quindi avrei avuto problemi A portarla in giro Ora che è lunga 2 Posso per sicurezza Dargli un glue In modo che lui crei Un nuovo file MIDI Che abbia la durata precisa Quindi posso duplicarlo E avere Un livello in più Ragazzi Sto beat fa schifo Cioè Ve lo dico Cioè È solo per farvi Vedere un po' Come funziona Quindi non lo chiamo Aiette Ma lo rinomino E lo chiamo Snare special Fine parte 1